ciao allora benvenute in un video dove io vi mostro tutte le creme mani della collezione classica di bottega verde allora sapete la mia passione per le creme mani io ne posso fare a meno quindi avevo preso un set tempo fa con le mini taglie delle creme che avete visto il video vero dove mostravo gli acquisti con le linee classiche di bottega verde perché poi ci sono quelle edizione limitata edizione natalizie ed estiva ma quelle sono edizione limitata queste sono le classiche le ho provate tutte e adesso vi dico la mia opinione allora prima di tutto è il prezzo di ogni questo sono tutte da 20 ml ma il prezzo della confezione classica che è un 75 ml il prezzo l'ho segnato è di 12 euro e 99 ma è sempre scontato quindi 6 euro e 49 almeno oppure 4 euro e 99 o con i saldi con le promozioni anche meno quindi davvero guardatele perché c'è sempre qualcosa in promozione allora direi di partire con quella che mi piace meno per arrivare alla fine con quella che preferisco sicuramente sono diversi quindi guardate le schede anche che e le compariranno qui sopra perché per ogni prodotto l'inci è diverso e anche la mia votazione e direi di iniziare a questo punto allora la prima che vi mostro è questa al karité karité d'africa crema mani al burro di karité ultra ricco ed è la confezione è questa allora intanto è una crema che sa di karité è inutile vi deve piacere la profumazione a me piace quindi non c'è problema devo dire che mantiene le promesse perché davvero ultra ricca ma davvero ultra ricca basta pochissimo prodotto ed è devi massaggiarla a lungo sulle mani quindi le lascio molto morbide bene idratate ma per tutti i giorni quando magari voglio una crema mani l'applico poi devo fare qualcosa non va bene questa deve avere un assorbimento lento e quindi la legata ed è per la sera perché comunque sia ed è la lascio magari in posa e letendo con i guantini in cotone oppure lasciandone in posa un attimo quando vado a letto alla mattina trovo le mani molto morbide quindi questo sicuramente meglio quella al karité per il periodo invernale quando le mani sono più scarpolate più segnate ha più bisogno di idratazione oppure sicuramente come impacco per la notte perché comunque funziona quindi questa qui poi seconda è sicuramente quella alle mandorle dolci questa qui che dice di essere crema mani alle mandorle dolci per peli normali con olio di mandorle dolci idratante setificante attenzione 98 per centi di ingredienti di origine naturale e prima di tutto devo dirvi che ho guardato l'inci ed è vero effettivamente ha solamente delle fragranze ma per il resto è davvero buona quindi ok allora è questa chissà se la metterà a fuoco prima o poi ok questa qui comunque allora andiamo al profumo mandorla è genera ancora un pochino 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 dentro che comunque ora usiamo è il classico profumo di mandorla quindi anche in questo caso deve piacervi al profumazione mi piacciono tutte quindi ed è delicato sulla pelle il profumo è delicato e non persiste sulle mani comunque sia allora è sì stavo per dirlo ma effettivamente si vede è nutriente idratante setificante è idratante sia buon potere idratante sicuramente setificante lascia le mani morbide anche questa come è della sua sorella di prima quella al karité è abbastanza ricca quindi basta poco prodotto da applicare anche di giorno in questo caso è un po meno ricca quindi va bene anche di giorno se però non vogliamo applicare la crema e poi fare qualcosa subito la applichiamo e poi dobbiamo andare nell'altra stanza cambiamo stanza mentre la massaggiamo in due minuti assorbita non è non di più però non è proprio immediata comunque un buon potere idratante ed è lascia le mani molto morbide alla sera come impacco è perfetta ma anche di giorno tranquillamente come ho detto non da applicare e poi fare qualcosa ma se l'applichiamo massaggiamo mentre e pensiamo cosa fare allora in questo caso va benissimo e anche questa qua e soprattutto l'incid e poi andiamo avanti e vi mostro questa che è argan e iris del marocco crema mani con latte di iris e olio di argandice di essere rigenerante limitiva questa qui allora questa ha una profumazione di iris che si sente molto quindi esatto l'argan si sente pochissimo si sente molto il profumo fiorito e oltretutto persiste un pochino sulla pelle quindi se vi piacciono i profumi fioriti questa qua sicuramente vi piace rispetto alle altre due di prima va benissimo alla sera come trattamento urto come impacco ma è più fluida e assorbe molto più velocemente delle altre quindi va bene anche per il giorno questa poco prodotto si massaggia e asciutta quindi tranquillamente da portarsi dietro alla mini taglia oppure da applicare durante la giornata molto idratante e dice di essere rigenerante l'initiva è idratante idratante l'intriente lascia le mani morbide lascia anche a questo leggero strato strato profumo di fiorito che è piacevole sicuramente se vi piacciono i profumi fioriti ovviamente ma comunque sia meglio delle altre sicuramente è adatto sia di giorno che di sera questa mi è piaciuta davvero siete arrivate fino a qui vero perché c'è la quella che preferisco allora quella che preferisco sicuramente è la crema all'argan crema argan del marocco crema mani con l'estratto di gessomino del deserto ed olio di argan dice di essere rigenerante e nutriente ve la faccio vedere subito prima che mi scordo questa allora è quella che mi è piaciuta di più si dice di contenere gessomino ed effettivamente si sente io amo il profumo di gessomino ed è unito all'argan questa profumazione fantastica a mio avviso ovviamente che oltretutto persiste sulla pelle per un po quindi ottimo anche per questo motivo tra le altre cose è ottima alla sera come impacco ma è perfetta anche per il giorno perché davvero è fluida e comunque è fantasticamente idratante ma basta poco per otto si massaggia ed è già asciutta quindi potete tranquillamente usare le mani subito dopo però le lascia profumate e nutrite quindi davvero ottima se io devo scegliere quale ricomprare io senza ombra di dubbio questa perché mi è piaciuta tantissimo ma anche le altre sono valide comunque sia ci fosse una mini taglia io questa la riprendo anche da portare in borsa perché cioè schiacciandola così da vuota perché alla fine è vuota ma schiacciandola esce il profumo e si sente fa labbre magiche in casa si sente ed è ottimo mi deve piacere il profumo di gessomino ma è delicato quindi perché no e questa è sicuramente la mia preferita allora intanto voglio sapere da voi se l'avete provata qualcuna qual è quella che preferite e se vi ho dato qualche spunto qualche nuova idea oppure se eravate curiosi di provarle qual è che secondo voi è la quella che vi può piacere di più come sempre vi ricordo anche che se vi piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella per così vedete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao